E' stato un successo la festa provinciale di Fratelli d'Italia a Bellizzi. Sabato 16 nella centrale Piazza del Popolo attivisti, rappresentanti locali, esponenti, simpatizzanti, si sono confrontati su varie numerose tematiche, dal lavoro all'ambiente, dai giovani al futuro. Passaggio fondamentale c'è stato per l'elezione europea del prossimo anno, alle quali il partito di Giorgia Meloni si presenterà con candidati di spicco, tra essi, novità ufficializzata a Bellizzi, Alberico Gambino. Io sono a disposizione del partito, quello che deciderà il partito, io quello farò, sono a disposizione del partito, sono il capo della segreteria del vice ministro Cieli, per me questo è già un grande privilegio, perché stiamo lavorando veramente alacramente, sia a Roma che qui sul territorio, per i problemi del territorio.